Dentro di me c'è sempre un ricordo indelebile mentre la casa mia arrivò a lungomare e lì questo profumo delle nasce. È una sensazione bellissima. Un piatto che in qualche modo riguarda tutta la regione Marche, riguarda i marchigiani, la loro veracità e la loro tradizione. E poi l'aria, l'aria è un vero e proprio ingrediente. Quando scendi dal treno a Porto San Giorgio o in qualsiasi altra città del mondo, c'ha un suo profumo che diventa sul piatto un ingrediente. Il mio obiettivo attraverso la nostra cucina è quello di raccontare le nostre origini, attraverso i nostri piatti, attraverso le nostre emozioni. Qui siamo nel Conero, la mattina vado nel parco a raccogliere il ginepro rosso selvatico, sono al mare e ho subito il prodotto ittico e riesco a fare dei connubi veramente molto interessanti. Questo è magnifico. Buongiorno a tutti, benvenuti, ringrazio gli intervenuti della stampa, ringrazio gli chef di essere qui con noi, gli chef che hanno partecipato a questo progetto e ringrazio l'assessore alla cultura della regione Marche, Giorgia Latini, a cui passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti, intanto saluto a nome del Presidente che dovrà venire anche lui a portare i suoi saluti, saluto il consigliere regionale qua presente Mirko Bilò e soprattutto ringrazio i due videomaker marchigiani Bianca Pasquini e Davide Mancini per questa bellissima idea di raccontare attraverso la tradizione dei nostri cibi il nostro territorio. Ecco, questa progettualità va proprio in linea anche con la visione politica, culturale e turistica della regione Marche perché tutte le nostre azioni sono improntate a narrare il nostro territorio attraverso le tradizioni, attraverso la nostra identità e quindi penso che anche attraverso il cibo, anche attraverso la nostra tradizione culinaria e enogastronomica possiamo far scoprire la bellezza della nostra regione e questo per esempio noi lo stiamo portando avanti anche riscoprendo le bellezze dei nostri borghi che ognuno ha la loro caratteristica anche a livello enogastronomico, ognuno di loro ha il loro prodotto anche a livello culinario e lo stiamo facendo creando un connubio attraverso ecco anche con la cultura, anche attraverso lo spettacolo dal vivo, quindi stiamo portando avanti un festival che ha un nome molto simile che si chiama Marche Storie, proprio per narrare le storie, le leggende, le tradizioni di questi borghi che vengono poi dopo messe in scena dai nostri artisti marchigiani e poi è ovvio che poi dopo dietro alla cultura, lo spettacolo dal vivo c'è anche il seguito della promozione anche enogastronomica di questi territori e quest'anno lo facciamo proprio attraverso anche una scatola dove dentro c'è un fazzoletto con tutti i vari prodotti di quei territori che si chiama Guluppa proprio per ricordare la vecchia Guluppa che uno portava dietro quando si andava al lavoro per i campi e quindi ecco questo progetto già narrare attraverso dei video come quelli che abbiamo visto che emozionano e che comunque ti fanno scoprire i sapori del nostro territorio ecco è sicuramente un progetto che vogliamo promuovere insieme a voi e sostenere con convinzione anche perché la nostra terra ha veramente tanti chef importanti di altissimo livello, di altissima qualità, vi ringrazio per la presenza e anche attraverso la loro cucina e la loro creatività possiamo promuovere e valorizzare ecco le nostre tradizioni, i nostri prodotti e quindi il nostro territorio. Quindi grazie e complimenti per questa bellissima iniziativa. Grazie. Ecco, molte volte mi è stato chiesto qual è stata l'origine di quest'idea, come è nata quest'idea. Quest'idea nasce dal fammiserato 2020 quando tutti ci siamo trovati a pensare come ripartire visto che l'economia veniva colpita così duramente dalle restrizioni eccetera. Noi lavorando nell'ambito della comunicazione abbiamo pensato a un settore, quello della ristorazione che era particolarmente colpito in quel periodo e da lì abbiamo approfondito il fatto che nella regione Marche c'erano davvero una miriade di prodotti tipici, prodotti molto legati ai territori, alle città dove questi nascevano, venivano coltivati e l'idea appunto fu proprio quella di raccontare, utilizzare la forza del video, la forza delle immagini per creare un percorso turistico, un percorso legato quindi alla ricerca del prodotto perché sono prodotti che non possono essere coltivati in maniera intensiva, non sono coltivati in maniera intensiva quindi non si troveranno mai nei supermercati di Milano, Roma e delle grandi città e volevamo sfruttare appunto questo per richiamare il pubblico, il possibile turista a percorrere diciamo le strade della nostra regione alla ricerca di questi sapori. Per naturalmente valorizzare, enfatizzare questi prodotti avevamo bisogno della creatività, della sapienza, di mani esperte come quelle di chef relativamente giovani che in qualche maniera potevano ecco dare la loro formula, la loro impronta, la loro creatività a disposizione proprio della preparazione di piatti che contenessero questi prodotti che in qualche maniera avessero diciamo l'appeal di qualche cosa che l'audience dei nostri video in qualche maniera dasse proprio questi input per intraprendere un viaggio. Quindi diciamo che la valorizzazione del prodotto è incentrata soprattutto nel richiamo di turismo nelle marche. Per fare questo appunto abbiamo chiesto agli chef, anzi prima voglio dire una cosa, essendo il regista faccio una nota di regia, noi abbiamo visto il trailer, il trailer è praticamente un estratto di un documentario molto più ampio che viene strutturato attraverso il racconto di un fantomatico diciamo viaggiatore che ha percorso già queste strade e quindi racconta una sua esperienza. Questa è una formula utilizzata diciamo specificatamente in alcuni documentari, io ho lavorato per parecchi anni nella documentaristica di viaggio, si possono raccontare qui c'è questo, qui c'è quell'altro ma secondo me aveva un'idea molto più, che faceva una presa molto più forte il fatto di raccontare io sono stato in quei posti, io ho visto questo, io ho assaggiato e vi posso dire che sono stato meravigliosamente bene, ho avuto un'esperienza meravigliosa in questi posti. Quindi questo diciamo, questo viaggio all'interno di questo percorso nella nostra regione diventa un po' il filo conduttore che poi va ad unire i vari chef che sono rappresentativi ognuno di ogni provincia, quindi non abbiamo privilegiato un territorio rispetto a un altro ma abbiamo cercato proprio di fare per ogni provincia un maestro della cucina che in qualche maniera raccontasse proprio la sua esperienza e la mettesse nel piatto. Per fare questo abbiamo chiesto agli chef di raccontarci la verità perché ultimamente con l'esperienza con l'avvento dei social abbiamo visto che l'utente è alla ricerca della storia vera, non vuole cose costruite, non siamo più a livello dei documentari di dieci anni fa, vent'anni fa dove si cercava di patinare tutto in una cornice diciamo perfetta, ma volevamo che loro raccontassero proprio la loro vita anche passando per le difficoltà, anche passando diciamo per momenti in cui non va tutto bene nella vita ma in qualche maniera poi si arriva a qualcosa di un successo grazie al lavoro, grazie all'interprendenza, grazie proprio a questa operosità del marchigiano che noi siamo diciamo dal punto di vista proprio a livello nazionale diciamo un esempio da questo punto di vista. Tecnicamente nel documentario abbiamo affiancato proprio delle immagini che riprendevano proprio noi che le riprendevamo proprio per dire noi vi sveliamo tutto, non vogliamo mettere le cose diciamo solamente quelle belle, noi vogliamo dire che qui è effettivamente così e quindi anche registricamente c'è stata questa scelta di non avere solamente delle immagini diciamo così pulite ma mettere proprio tutto quello che c'era anche il casino che c'è nella cucina, mettere proprio l'opulenza del lavoro di tutti i giorni che gli chef naturalmente affrontano perché noi li vediamo magari troppe volte come i maestri di cattedra di programmi come Masterchef eccetera ma loro ci raccontano che invece dietro c'è un grandissimo lavoro e a volte c'è veramente la fatica dietro al successo per arrivare al successo. Quindi questa cosa diciamo era molto importante. Sia tutti i trailer che il documentario è tutto sottotitolato in inglese perché volevamo assolutamente che questo tipo di comunicazione uscisse anche fuori dai confini nazionali, è importantissimo richiamare anche il pubblico turismo dall'estero e diciamo che la nostra è stata inizialmente un'idea molto ambiziosa perché ci siamo guardati intorno a questi tipi di situazioni dove l'enogastronomia va a costituire un'attrattiva turistica, non siamo stati noi ad inventarla, i francesi in moltissime zone della Borgogna, la zona di Lione ne hanno fatto veramente motivo di grande interesse turistico, in Italia viene da pensare alla zona delle Langhe in Piemonte o la stessa Toscana che anche lei insomma nel passato ha dato vita a questo tipo di attrattiva, l'ambizione nostra è che anche nelle Marche nasca diciamo un'attrazione legata all'enogastronomia. Cioè quindi cosa vai a vedere nelle Marche? Sì, andiamo a vedere le grotte di Frasassi, andiamo a vedere il Monte Conor, andiamo a vedere, non me ne vogliate se salto le province, voglio dire andiamo a vedere quello che c'è da vedere ma andiamo anche ad assaggiare i prodotti che troviamo solo lì e che in qualche maniera sono lavorati dall'esperienza di chef che legano proprio la loro esperienza al territorio, la loro origine, i loro ricordi da quando erano bambini, diciamo i loro vissuti nel territorio marchigiano che quindi anche questi potevano essere cornice diciamo del racconto. Il format vuole essere un format replicabile, il format è quello dell'intervista che racconta quindi la propria esperienza di vita legata a un prodotto. Perché replicabile? Perché naturalmente noi abbiamo parlato di cinque province ma naturalmente queste cinque province non hanno un solo prodotto, ci sono anche tanti altri chef che potrebbero raccontare altre storie e quindi in questa maniera volevamo proprio mettere in moto un format che potesse nel futuro poi dare voce anche ad altri amanti dei prodotti tipici marchigiani, altri chef e quindi ampliare il discorso mi viene da dire al tartufo, ai vini, al formaggio, all'olio eccetera eccetera. E' veramente c'è una lista amplissima di questi prodotti e quindi si può anche sulla quantità, sulla varietà di prodotti che le marche hanno fondare qualche cosa che nel tempo poi continuasse diciamo la sua proprio la sua analisi, il suo approfondimento per creare ancora prodotti che possano invadere diciamo tutti i canali di comunicazione e che in qualche modo possano proseguire in questa attività di costruzione di questa attrattiva. Lo stesso documentario è stato formulato in una formula tale che praticamente si potesse dividere in tante piccole pillole, noi l'abbiamo fatto ad esempio nei mesi scorsi, tante piccole pillole per invadere i canali social perché naturalmente oltre alla televisione oggi il web è una via di comunicazione importantissima e quindi un documentario di 20 minuti chiaramente non poteva essere qualcosa di appetito, oggi siamo abituati a scorrere in maniera veloce con le immagini, vogliamo subito l'input che ci dà quella sensazione di questo mi piace, questo non mi piace, non abbiamo bisogno di vederlo per un'ora, chiaramente abbiamo bisogno di approfondire il tutto ma di poter lanciare dei messaggi anche molto più immediati, molto più brevi che potevano coprire tutti i canali social e questo è stato fatto con successo nel mese scorso grazie all'apporto della nostra agenzia di comunicazione MPM comunicazione che ci ha supportato in questo progetto, che ringrazio qui davanti a tutti quanti, veramente hanno fatto un lavoro certosino e molto impegnativo e con questo prodotto finanziato dalla regione abbiamo coperto quasi un mese e mezzo di post, di storie pubblicate nei vari canali social, quindi adesso concludo poi lascio magari la parola a chi volesse in qualche maniera fare delle domande, invito anche a far intervenire gli chef e concludo dicendo mi auguro veramente che anche le istituzioni possano avere nell'ottica futura la volontà di andare avanti, di non fermarsi perché chiaramente un video, sì per quanto può essere bello è pur sempre un video ma bisogna lavorare tanto, lavorare insieme, fare un lavoro di squadra perché naturalmente le marche sono sempre state un po' abituate a lavorare ognuno nel suo però io penso che questa cosa si possa assolutamente abbandonare questa abitudine e lavorare insieme per creare veramente qualcosa che possa valorizzare la regione, grazie. Se qualcuno tra il pubblico vuol fare una domanda o agli chef o ai videomaker, gli autori del lavoro che è stato qui presentato io porto direttamente a casa il microfono. Allora nell'attesa che arrivi il presidente Acquaroli, se non ci sono domande dal pubblico io proietterei il video integrale e cominciamo con il buffet a questo punto poi semmai aspettiamo il saluto del presidente. Se vuoi faccio io una domanda. Come no? Se hai già microfonato quindi sei autonomo puoi procedere direttamente. La domanda naturalmente noi vogliamo sempre essere a contatto con chi in qualche modo partecipa con noi a questa iniziativa quindi mi piacerebbe sapere da loro, diciamo un po' di feedback naturalmente li abbiamo avuti in privato mi piacerebbe sapere da loro ecco se in qualche maniera questa formula come l'hanno vissuta e se può essere diciamo anche migliorata. Naturalmente noi siamo qui proprio con la massima apertura per avere diciamo dei suggerimenti da chiunque, naturalmente loro che lavorano nel settore, lavorano tutti i giorni nel ristorante quindi hanno la percezione di quanto una promozione può essere efficace o meno a livello comunicativo diciamo che cosa è stato per loro e che cosa magari può essere migliorato. Se qualcuno vuole dirci qualcosa Alessandro Uno a caso Me lo immaginavo Me lo immaginavo A me sinceramente farebbe piacere rivedere il video integrale perché sicuramente ne vale la pena anche perché comunque un occhio critico da parte di tutti, cercare anche di capire ecco appunto tutto il lavoro che è stato fatto, che avete fatto voi in merito io innanzitutto ci tengo a ringraziarvi perché collaborare con voi è stata una cosa molto interessante una cosa di crescita anche a livello professionale Il progetto io l'ho sposato subito, parlo in prima persona perché condivido tutte queste cose, tutti questi valori e sono sicuro che anche i miei colleghi la pensano come me nel creare gruppo, nel creare un'unione di intenti per quanto riguarda l'enogastronomia marchigiana e per questo motivo appunto non a caso le Marche è l'unica regione al plurale e quindi è proprio per questo motivo che tutti noi insieme dobbiamo unirci per raggiungere un unico obiettivo detto questo se qualcun altro vuole dire qualcos'altro io vi ringrazio per essere qua Si sente sì ma ovviamente mi leggo al discorso di Alessandro ovviamente innanzitutto il ringraziamento a chi comunque ha pensato l'idea a chi ha dato il supporto per realizzarla e per fortuna si parla pieno titolo di una regione al plurale quindi fortunatamente diciamo promuoviamo quello che realmente abbiamo tutti insieme dal nord a sud, est o ovest senza differenza di nulla e penso che sia la chiave più importante di lettura per diciamo la promozione del nostro territorio perché ognuno di noi ha le proprie forze, le proprie capacità tutti insieme potremo solo fare di più e fare meglio quindi continuiamo così anche io volevo ringraziare tutti gli chef che hanno partecipato a questo progetto quindi il Mangiastori è un racconto itinerante e noi ci auguriamo che questo sia veramente solo il primo step di un lungo viaggio di approfondimento di tutti i prodotti, i frutti e i paesaggi che la nostra regione ci offre mi sentite? Sì io volevo ringraziare Bianca e Davide perché nel caso mio specifico sono venuti nel mio ristorante in un momento di grande difficoltà c'eravamo appena uscire del covid ed è stato diciamo un raggio di sole in una tempesta si sono subito messi all'opera per darci nuova linfa, darci un'opportunità, darci visibilità sono stati veramente super disponibili e hanno secondo me creato un progetto fantastico e mi collego al discorso stato fatto prima da Davide del sacrificio in questa tavola sia nel pubblico che dove sono subito io ci sono tante persone che sono sacrificate in questi anni nello studiare, nel lavorare, nel fare stage mi viene in mente anche alcuni collaboratori che hanno collaborato con me in passato e oggi vederli qui, vedere tutti assieme potremmo essere diciamo le nuove forse le nuove leve culinarie delle Marche, i nuovi giovani che potrebbero raccontare, esaltare le Marche è una cosa molto bella quindi grazie anche per avere riunito tante persone che in questi anni sono stati hanno fatto sacrificio all'ombra senza magari avere una buona visibilità cosa che questo progetto ci ha dato quindi per me è stato veramente un bellissimo progetto che ci ha dato tanta spinta e tanta energia e tanta positività in un momento in cui era parecchio buio quindi grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno fatto sacrifici nelle cucine che magari non si vedono e che ci danno una mano tutti i giorni per portare avanti i nostri progetti e niente, viva le Marche e speriamo di continuare a raccontare noi una nuova storia della nuova cucina marchigiana fatta di giovani che hanno voglia e si sacrificano per dare un ottimo prodotto ai marchigiani e ai turisti grazie a voi essendo l'ultimo non posso far altro che associarmi a tutto quello che è stato detto finora e ribadisco anche il fatto che secondo me sto fatto davvero un ottimo lavoro e per l'altissima qualità appunto di quello che è venuto fuori alla fine quindi viva le Marche e grazie di tutto penso che possiamo procedere con il video ma prima di tutto volevo ringraziare il consigliere regionale Marco Ausili che si è reso subito disponibile penso si sia appassionato anche lui a questo progetto lo spero e grazie allo settore Giorgia Buona visione Buona visione